ecco un esercizio efficace per allenare gli arti inferiori senza utilizzare dei sovraccarichi l'elastico è una resistenza uxotonica leggerissima con ingombrante e molto versatile si parte posizionando l'elastico sotto le piante dei piedi che impugnando le due estremità come fossero maniglie come in tutti gli contraffondi le spalle sono adotte e in linea con il ginocchio posteriore e con l'anca il ginocchio anteriore invece non deve superare troppo il malleolo e le braccia rimangono sempre distese più indicato scendere lentamente ed effettuare la spinta verso l'alto in modo più deciso gli esercizi per gli arti inferiori con l'elastico hanno bisogno di un carico maggiore dunque possiamo utilizzare o un elastico con un maggiore spessore oppure ripiegare l'elastico su se stesso raddoppiandolo nell'esercizio dei contraffondi che abbiamo appena visto è molto importante non farsi trascinare in avanti dalla resistenza dell'elastico dunque mantenere il busto eretto e mantenere le braccia distese quindi senza modificare gli angoli del corpo l'elastico deve avere la funzione di manubrio quindi di contrappeso è come se avessi dei manubri in mano quindi mantenere il busto eretto salire in modo rettilineo e non farsi tirare in avanti dalla resistenza dell'elastico